Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pecorino, parmigiano, olio di semi, uova, latte, ricotta, sale, pepe, noce moscata, prezzemolo, farina di tipo zero, lievito istantaneo per torte salate, salmone affumicato a pezzetti. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino ed il prezzemolo ed azioniamo il per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova, l'olio, tè, la ricotta, la farina, la noce moscata, il pepe, il sale ed il lievito. ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. aggiungere il salmone ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferirlo in uno stampo da plum cake ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Plum cake al salmone, grazie e alla prossima ricetta! Plum cake al salmone, grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!